Buongiorno a tutti e benvenuti nel video tutorial di E-Maze. E-Maze è un'applicazione web che consente di creare presentazioni online, ma anche siti web, blog, e-card e foto album, tramite template forniti direttamente dall'applicazione che permettono di ottenere degli effetti 3D, delle grafiche particolari e una serie di animazioni. Per poter iniziare ad utilizzare l'applicazione andiamo a scrivere il suo nome nella barra di ricerca e si aprirà la seguente schermata. Ricordiamo che E-Maze è un'applicazione web ma anche un'applicazione Android e che è necessaria la registrazione per la creazione dei prodotti. Quindi a questo punto andiamo a effettuare la registrazione oppure il login che potrà avvenire tramite account Facebook, Google oppure inserendo la propria mail. Una volta effettuata la registrazione oppure il login questa è la schermata che ci apparirà, quindi questa è la dashboard di E-Maze. A questo punto qui sarà possibile creare nuovi progetti, quindi selezionando presentazione, sito web, foto album, e-card o blog, oppure visionare i progetti già creati, oppure quelli condivisi, esplorare i progetti creati da altri utenti, oppure importare presentazioni dal proprio computer. Quindi iniziamo per esempio a vedere un esempio di creazione di presentazione. A questo punto ci chiederà se vorremmo utilizzare un template messo a disposizione dall'applicazione oppure utilizzare un template vuoto. Clicchiamo su quello vuoto e apparirà questa schermata. Nella schermata di editing dal menu a sinistra è possibile inserire una serie di slide come titolo, testo, immagini, grafici, oppure incorporare link e importare file PDF oppure presentazioni PowerPoint. Nella sezione settings invece si potrà scegliere il tema della presentazione, mentre nel menu in alto è possibile andare a modificare il testo, inserire un'immagine, vari media, inserire delle forme o dei widget e una volta terminato si potrà salvare la presentazione, scaricarla, condividerla oppure visionarla. È necessario ricordare però che per quanto riguarda il download questo è possibile solo per gli utenti che dispongono delle versioni a pagamento, mentre per quanto riguarda la versione gratuita è semplicemente possibile salvare o condividere la presentazione. Per quanto riguarda invece la creazione di altri contenuti, ricordiamo che i maze si comporta lo stesso modo, quindi le funzionalità dell'applicazione rimangono sostanzialmente le stesse, può cambiare al massimo la schermata di editing, ma per quanto riguarda le funzionalità queste rimangono esattamente le stesse di quelle che abbiamo visto per quanto riguardava la presentazione. Come avete potuto notare l'applicazione è un'applicazione molto semplice da utilizzare, non richiede grandi capacità nemmeno per quanto riguarda la creazione di siti web oppure di card o di blog, è molto semplice e intuitiva. Il video tutorial è terminato e auguro una buona giornata a tutti!